Sì sì, è un territorio un po' particolare, però pieno di persone che hanno anche grandissime capacità, come sempre nei posti dove c'è un po' di semplicità per essere gentili, però poi nascono fuori delle grandi personalità, la Puglia ha questa peculiarità secondo me, qui c'è un terreno fertile perché c'è una risorsa umana importante per cui è anche un'opportunità di riallacciare i miei rapporti con le mie radici. Lei che è un artista affermato, cosa le lascia questo rapporto con i ragazzi? Beh, ne faccio poche perché chiaramente per via del mio lavoro sono sempre in giro, sempre impegnato, grazie a Dio, però per me è sempre uno scambio alla pari e non ascolto anche le loro domande, quello che pensano, cerco di trasferire quella che è la mia esperienza nel cinema, qui anche cercando di evitare dei luoghi comuni che spesso ci distraggono dal vero senso del mestiere del cinema.